Le tradizioni sono importanti nella vita, i punti fermi, le certezze. Il secondo video della storia del secondo testo male nasce qui, all'Acquarella, a Trevignano. Uno dei posti, a mio modesto parere, più belli al mondo nel suo genere. Ristorante, sul lago, praticello. Come questo, Oke. Oke? Oke. Lago, no sole. Catamarano, nuvole, molo, sembra quello delle parole che non ti ho mai detto. Non ha fatto una bella fine, ma non temiamo nessun tipo di, come si chiama? La superstizione, superstizione è il sintomo di poca, no, di ignoranza. Nel senso di colui che ignora, colui che non conosce. Barca vera, lui ha vinto, loro stanno scendo, loro hanno vinto. Nel nostro piccolissimo, noi abbiamo vinto, mozzarella, vino pecorino, pescetto, pesce al sale, vino dolce, caffettino. Oddio, oddio, ma voi non lavorate mai. Sono le 2 e 20, sono le 3 e meno 20. Alle 3 e in quarto stanno al lavoro. Secondo te sto male. No alibi, no ipocrisie. Se non lo sai ancora fare, puoi impararlo a fare, anche tu. Anziché andare verso il centro di Roma, vai outside centro di Roma, outside vuol dire verso fuori. E poi torni a Roma, carico come una bestia. Siamo noi stiamo male. Abbiamo parlato di lavoro, di affari e di cazzate. E noi andiamo a tornare alla nostra vita. Avviva la vita. Quanti mesi ha tu, Pio? Quanti mesi ha tu, Pio?